Giornata importante per la comunità di Penne e Vestina per la riapertura dell'Agenzia per la promozione culturale di Penne. La biblioteca chiusa dal sisma del gennaio 2017 avrà una gestione congiunta pubblica privata. Infatti è il primo caso in Abruzzo che un'agenzia per la promozione della cultura è affidata a volontari grazie a cinque associazioni, Pinna Vistinorum, Università della Libertà, Associazione Nato Frasca, Plus e Avuls. La riapertura della biblioteca ha avuto la condivisione dell'intero consiglio comunale grazie anche al lavoro del gruppo Penne e Valle e del Movimento 5 Stelle. Credo che sia un bel esempio di massima collaborazione. Si riapre un luogo di cultura, un luogo di incontro in un territorio dove chiaramente la presenza è sempre necessaria e riapre perché c'è questa collaborazione tra il comune che ha fatto uno sforzo notevole, ha saputo ben lavorare, la regione che interviene mettendo a disposizione le risorse per la gestione del centro e cinque associazioni, quindi diciamo cinque privati, anche se sono associazioni culturali, che hanno deciso di gestire queste biblioteche. Questo è un modo intelligente di fare cultura e di tenere in piedi strutture che nei territori magari vanno sempre più diminuendo e quindi si perde quella centralità che invece i cittadini chiedono. Un luogo simbolo perché la cultura in una città importante e culturale come Penne non doveva essere chiusa e noi ci siamo impegnati. Abbiamo impiegato qualche mese in più però finalmente siamo riusciti ad aprire l'Agenzia per la promozione culturale di Penne. Un fatto molto importante perché andremo anche ad attuare quel sistema di sussidiarietà orizzontale, c'è la partecipazione attiva dei cittadini per la gestione di questi spazi.